Buonasera a tutti, io chiedo scusa per il ritardo e chiedo scusa anche a nome del sindaco che improvvisamente è stato chiamato a potenza a regione, è una discussione sul crop e quindi impossibilità di stare qua e quindi dall'ultimo minuto mi sono dovuto proiettare, saluto tutti voi, quindi tenuto a questa interessante pubblicazione, un saluto particolare chiaramente alla famiglia di Adenacci, rappresentata al tavolo, da Nicolè Giuseppe che ha sostenuto come ben ricordava il coordinatore di questo incontro, ha donato pronto, ha donato e ha curato la pubblicazione, ha donato i volumi alla casa di riposo, un saluto ai relatore che ci aiuteranno a comprendere meglio e più pienamente la figura polietrica e il pensiero dell'ingegnere Adenacci. Un ringraziamento chiaramente particolare agli autori, a Michele Traficante, a Padre Carlo Palestrina che tra cui arriverà e al curatore Leo Vitale che come ricordava donato pronto ha provveduto alla risistemazione dei capitoli, alla selezione dei documenti, per capirci ha messo a punto, ha dato un maggiore corpo al progliaccio come dice Michele Traficante, il progliaccio che Michele aveva già preparato, cosa che sicuramente ha conferito al lavoro snellezza e agilità. Un saluto alla guarda di amici della città di riposo, sempre molto vicina a noi e a loro e al presidente della contraternita Sadino Cecere che ci ospita in questa bellissima pinaconica sulla quale però l'amministrazione comunale, a dire il vero, forse è stata l'unica amministrazione, un'assessorata alla cultura, abbiamo curato una pubblicazione specifica, abbiamo stampato circa 3000 volumetti che abbiamo dato un po' tutti in giro sulla pinacoteca, su questa pinacoteca, abbiamo messo a punto il lavoro con la collaborazione del professor Pruonto di Leo e di Don Ciro Guerra che è il vicario del sindaco, Michele Traficante, insomma c'è stato un gruppo di lavoro che si è attivato e ha dato visibilità a questi dipinti, a questo luogo. Io sarò breve perché non voglio entrare poi diciamo su questioni che meglio di me e più di me potranno raccontarci gli autori o il professor Donato Martiello. Certo che il lavoro messo in campo che ho letto con grande attenzione è una concreta illustrazione a tutto tonto dell'eccezionale vicenda umana dell'ingegnere Catenacci che i due autori distintamente evidenziano con lucida maestria, il caso proprio di Catenacci, ogni aspetto della personalità di Catenacci nelle vicissitudini della sua esistenza segnata da momenti di particolare sconforto, da grandi dolori, ma anche all'età che è resa piena e positiva dalla stima e dall'affetto di tanti personaggi eccellenti, è resa viva e piena dei suoi sempre sentiti impegni civili e politici. Murlievo certamente è dato dei rapporti di profonda amicizia che legò l'ingegnere Catenacci con Don Giustino, con Fortunato, un'amicizia assai arricchente per Catenacci chiaramente in quanto, come anche Donato Martiello, evidenza nella prefazione, l'ingegnere Catenacci trasse ispirazione e guida sia per gli studi meridionalistici, sia per la ricerca storica e sia per la passione per la natura, specie per la montagna, direi che il Catenacci forse fu un ambientalista antelitterano, leggendo alcuni passi insomma si viene colpiti dall'amore che aveva per la montagna. E insieme a Fortunato chiaramente anche altre illustre personalità, i personali di rilievo furono vicini a Catenacci con la loro stima e con la loro amicizia, ma quella che maggiormente mi ha colpito leggendo questa pubblicazione è quell'amicizia particolarmente affettuosa, quasi, dovrebbe dire, filiare, filiare che legò Catenacci al suo più giovane biografo, cioè Michele Traficante, insomma, si evidenzia proprio, traspare in ogni passo del libro e su questo sono certo che Michele poi ci dirà direttamente qualche cosa. Michele evidenzi il carattere oppresente appunto aspro e ruento del grande amico, ma esalta anche spesso e più volte la bontà, la sollecitudine paterna, oltre a porre l'accento sul fatto che Catenacci amò la sua terra come mai nessun altro, ricercando sempre quello che di più bello, di artistico, di interessante questa terra potesse avere. Anche se il buon Fortunato gli diceva di abbandonare questo suo porco selvaggio Portunatio, lui continuò a perseverare invece nel suo essere uomo di questo territorio. Leggo chiaramente anche fra le righe di questa pubblicazione una deferenza nobile, quasi un detto di gratitudine che lega Traficante al suo maestro Catenacci, molto similare, molto molto similare anche a quella che legò a sua volta Catenacci con il Fortunato, mi pare una continuità quasi. Gli autori dicono in premessa che questa pubblicazione non è esaustiva nel rendere al meglio i meriti del Catenacci. Forse sarà anche vero, ma io credo che invece si è prodotto un lavoro sull'illustre ingegnere, si è prodotto all'ingegnere una viva e completa rappresentazione, quindi che in più il libro trascende il carattere della commemorazione, va ben oltre, quindi non è un libro solamente commemorativo, contribuisce a revocare episodi e aspetti significativi della vita di Lionel, oltre a contenere spunti validi per riflessioni sulla nostra regione e anche sull'Italia meridionale. Quindi questa pubblicazione, come dicevo, va oltre, non solo apre un dibattito su Catenacci e sulla sua multiforme attività, ma come dicevo va oltre, ci proietta di fatti in un particolare periodo, un particolare periodo storico di questa nostra regione, il periodo che va dal fascismo all'inizio del fascismo a tutto il dopo governo, su cui sarebbe necessario approfondirne lo studio. Ed è questo che faceva di andare oltre con questa pubblicazione un ulteriore merito che va dato agli autori. Io chiudo veramente sottolineando che il Catenacci che esce da queste pagine è l'uomo insonno, pervaso da mille interessi, da mille ruoli, che non si rassegna alle vicende avverse, quindi un uomo forte, nello spirito, ma quello che più mi colpisce è Catenacci e l'uomo libero che c'è dentro il Catenacci, l'uomo libero con il coraggio di dire sempre la verità senza alcun condizionamento. Quindi ringrazio gli autori che in modo autentico, bisogna dire, ci hanno dato la possibilità di conoscere meglio il pensiero e l'azione di un grande umanista di questa nostra comunità, un umanista d'eccezione e hanno contribuito con questo loro lavoro ad evitare nella nostra comunità una perdita di memoria che nel tempo si potrebbe tradurre una perdita di un pezzo della nostra identità. Grazie. 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 Grazie.